Lu, ho detto di dire a Roccoloria che in periodi bui, come quelli dell'anno scorso, che sono simili a quelli di quest'anno, ci ha regalato risate che ci hanno rasserenato la giornata e ci hanno ricaricato di una grande energia. Dell'energia che solo i meridionali o quelli che sono come noi, che hanno il cuore come noi, possono avere. E per questo, grazie!